ah la vita un giravite una cosa vi chiedo qualche modo un attimo di un momento di solo zucchero di canna a me beh che cosa? un depo palletto lo vuoi servire no io voglio uscire da qua ho detto che sono... ehi te stai a doffro che notte? oi cioè non me ne frega niente mi sta tenendo giù un show sequestro di persona sequestro di persona ma cosa è questo? lei è accusato di sequestro di persona però io non ho sequestrato nessuno guardi beh diciamo c'è poco da fare poco da dire lord vai dentro lord c'è a me là no? no no se vi destasse proveremmo a stare davanti altrimenti voi lo prenderete dritti ma noi in piedi si fa così in modo come per la versazione sta accadendo quello che doveva accadere è accaduto per fortuna si è alzato non ci ha fatto male no no fa caldo 40 gragi Questa è la fine che io voglio fare Ma di che nazione è Grecia? Della bianche russa Guarda Stai a far la canzone Ascoltate Non si mette un'altra Non capito Fermarci davanti alle splendide postazioni di stampa E fingendo un'intervista, anche se non in prospettiva Montata per il post nomination In modo tale che si sappia Nel mondo, il mondo deve sapere Vedi che sta venendo Sta venendo che voi partecipano E ci vuole che riprendere Non rilascio l'intervista Quante volte lo devo dire Ogni volta che gli sono assronzato Scolto il telefono E quindi Questa E la stella di Roma Pronti Allora, una stella l'abbiamo presa già Tutte le stelle che stavano Una cadena proprio in destra Doveva prendere Ma ti sembra giusto a te? Mi pavoneggio Della mia felpa Orgogliosa per te in fuori Ma attenzione Anche ciò che c'è sotto Non è certo Giamma Yeah You gotta do it E inchinatevi Al potere della torre Signore e signori Ecco a voi un grande Ma cioè Si vede che è grande Perché c'è proprio E' grande Ok Se noi siamo qua a divertirci La propria sua Dai ragazzi Dai dai Che ha dato vita a qualcosa Di veramente Un dico eccezionale Ma eccezionale Dai 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 Un grazie a tutti E' grande E' un grazie a tutti Anche a Michele Che sta lì dietro Ti prendendo Veramente ragazzi Spacchiamo il mondo Sembra un ragazzo simpatico Ma non è Sembra Vedi Michele Ancora Vedi Ha detto Augustone Intacchi possibili rotture Quindi quali sono I Dalec Cyberman Che piano piano Ogni volta Fanno sempre Exterminate Exterminate How many sucker for you My friend Four Oh Two C'è ne fai quattro Dopo Metti in me una a me Poi al caffè a lui Lo versi là dentro Ha 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 Well io Cos'ho l'un Come mai scettavo Scettavo stessa Però cos'è La stessa Con le tre Il gioco delle tre Pagli La 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 Ieri c'era Batman E oggi c'è Superman Eh Well io Ehi Dopo la manifestazione Possiamo raggiungere Dopo San Pietro Il lungo temere Ma Magari anche noi Quindi prevediamo Il peggio Potrebbe finire qui La nostra Aventura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti